Ciao Mbari, io sono mio papacaso. Senti, c'è il libro che mi ha scritto ultimamente, non so se ti ricordi il titolo, Figli su caminchi, nipo nipo, non da risicare mai mai a cagare meccano. Sta avendo un successo strepitoso, un successo imperdonabile, imbescolabile, ma non solo qua in Italia, ma anche all'estero qualcosa di straordinario. Dunque io voglio citare un altro piccolo passo per dare delle indicazioni importantissime a tutti i genitori. Per esempio, prendiamo questo piccolo capitoletto, il 32esimo, come rispondere al bambino, al bimbo che domanda, al papà, papà, di chi non mancarti l'enciclopedia? Il genitore, ecco cosa, dovrebbe rispondere. Sì, iso che minghi, tu, ma che stai ancora, tu, ma che ti metti in destra e ti minghiare, vuoi l'enciclopedia? Tu, ma lo sai che è l'enciclopedia? Ma lo sai uno dell'alcolare da uno a uno tutti i volumi, lo sai o te l'attirio? Sì, iso che minghi, non devi secare mai, 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 a domandarmi sti minghiare, sti cazzane, chi sento moca di mettere a destra sti cagati dell'enciclopedia, la treccane, a traguagliare, le raggine, pitti da sappo, marabetta lunga, ti vai a traguagliare. Ma quale spaglio di enciclopedia? Mi sembra una risposta più che logica, più che giusta. Ciao, pare, n'abbai visto, ciao.